volta stavolta stavolta sono sicuro di riuscire a fare un ottimo trailer e book trailer sulla rosa e però in realtà mi faccia piacere leggervi questa cosa qua che dice dunque ogni turba comporta così un'alterazione specifica del tempo vissuto binzwanger per esempio ha definito in idee in fruit la perturbazione temporale dell'esistenza maniacale lì il tempo è reso momentaneo per frammentazione e privo di aperture sul passato e sul futuro si avvolge vorticosamente su se stesso procedendo a sbalzi o per ripetizioni a tutti compreso e individuato e malattia mentale psicologia di bicefo torniamo adesso proprio in base a quanto si è affermato qui alcuni passi però sempre sembra facile ma non è non è così facile non solo per me io credo che poi in generale nel concetto stesso di book trailer